Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Bomba a Fano, le 144 ore scadranno alle 9 del 19 marzo, poi verrà fatta brillare in mare In città non si parla d'altro, nel web si scatenano i tutologi e la satira Ma c'è chi si interroga anche sullo scampato pericolo Dopo l'esplosione, quali saranno le conseguenze per i pesci e l'ambiente marino? Lo abbiamo chiesto al professor Piccinetti del Laboratorio di Biologia Marina dell'Università di Bologna Questo è il telegiornale Occhio alla Notizia, con Marco Ferri Benvenuti cari telespettatori di Fano TV a questa nuova edizione del telegiornale Dunque, come avete sentito, sarà fatta brillare in mare lunedì prossimo La bomba rinvenuta il 13 marzo nella spiaggia di Sassoni di Fano Durante i lavori di ricostruzione di uno scolmatore a mare La notizia viene dal sindaco di Fano, Massimo Seri Ha detto, i palombari della Marina Militare effettueranno l'operazione lunedì prossimo Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno Le fatidiche 144 ore intanto scadranno alle 9 del mattino del 19 di marzo Fino ad allora l'ordigno che giace in fondo al mare Sarà costantemente sorvegliato H24 Ora giace adagiata sul fondale marino A oltre 10 metri di profondità a 2 miglia dalla costa 4 chilometri in linea d'aria La bomba di fabbricazione inglese della seconda guerra mondiale Da 500 libre Con i suoi 150 chili di esplosivo ad alto potenziale Resi ancora più micidiali Dall'innesco ritardato chimico Pistol 36 Riportata alla luce dalla ruspa dell'Aset Poco dopo le 9 di martedì scorso Nel cantiere degli scolmatori a Sassonia di Fano E che ha costretto prefettura e sindaco A predisporre il piano di evacuazione Che coinvolgeva 23.000 cittadini fanesi Un'operazione con un tasso di pericolosità altissimo Per la possibilità dell'esplosione della bomba In ogni istante Portata a termine dagli artificieri dell'esercito prima E dagli incursori della marina poi Con grande senso del dovere e abnegazione Ma il compito della marina militare non è terminato qui Le fatidiche 144 ore di tempo Entro la quale la spoletta ritardata dovrebbe essere innocua Scadranno alle 9 di lunedì 19 marzo Dopodiché quando le condizioni meteomarine lo permetteranno Gli sminatori della marina dello Sdai di Ancona Torneranno per finire il lavoro E far detonare definitivamente in mare l'ordigno bellico Fino ad allora ci penserà la guardia costiera A vegliare su di essa E a tenere lontane le imbarcazioni Nel raggio delle due miglia marine Tutto quello che rientra all'interno di questo settore circolare È sostanzialmente interdetto in termini di svolgimento Di qualunque attività marittima Pertanto le unità che dovranno accedere al porto di Fano O dovranno uscirne Manterranno una rotta a nord del porto stesso D'altrondo il porto di Fano ha una bocca orientata al nord E avranno cura di evitare la zona di interdizione A riguardo la guardia costiera di Fano Aveva già fatto per tempo una richiesta di emissione Di un avviso urgente ai naviganti Avvisi che vengono periodicamente ripetuti Dalle stazioni di radio costiere Di modo che tutti i naviganti appunto Abbiano modo di poter fare ascolto Il punto è presidiato immagino? Sì esiste un meccanismo di pattugliamento Di monitoraggio Effettuato con l'ausilio di motovedette Della guardia costiera di Ancona Di Pesaro di Fano E con la partecipazione di motovedette Dell'eparto operativo aeronavale Della guardia di finanza di Ancona In questi giorni in città non si parla d'altro Si parla solo di questa bomba È in strada al lavoro Nei bar Ma è sui social Come spesso purtroppo accade Che i tuttologi danno il peggio di sé Con commenti a volte a del poco deliranti Tra i tanti commenti e considerazioni Che stanno serpeggiando tra la gente sul web A poche ore dalla conclusione dell'emergenza bomba Uno dei più diffusi è quello A riguardo del fatto che questo mostro silente Dal devastante potenziale distruttivo È rimasto in letargo a pochi metri dalla superficie Per ben 74 anni Probabilmente da quel 15 aprile del 1945 In cui i bombardieri inglesi Tentarono di interrompere la linea ferroviaria adriatica Migliaia e migliaia di persone In tutti questi anni ci si sono sdraiate sopra A prendere il sole Oppure quanti pescatori Durante le serate invernali Ci hanno piantato sopra i picchetti Per le proprie canne da pesca E via via di questo passo La lista degli scampati al pericolo Si allunga senza contare A cominciare dai due operai Che stavano procedendo allo scavo Con la ruspa martedì mattina Fino ai tecnici dell'ASET E dalle forze dell'ordine Che nelle prime ore del ritrovamento Prima dell'arrivo degli artificieri dell'esercito Ci hanno gironzolato attorno Il resto, gli sconclusionati commenti O improbabili soluzioni alternative All'evacuazione di sicurezza Messa in atto dalla macchina dell'emergenza Li lasciamo alle piccole menti Che li hanno partoriti Ma questa situazione impone Una considerazione che è probabilmente La stessa che si sono fatti In queste ore i vertici dell'ASET Fermando ambedue i cantieri E intrapreso un'operazione Di approfondimento sul sito in questione Dato questo precedente storico Ma tra coloro che hanno subito L'evacuazione Con quale stato d'animo Si sono vissute le seppur brevi Ma concitate ore Come si sta a sapere Di aver scampato Un così grave pericolo E di aver convissuto A pochi metri Da un simile mostruoso Marchingegno Avevate una bomba Eh no A due passi A cento metri È vero Come l'avete vissuta? Niente Noi ci siamo accorti Verso l'una Che c'era un po' di movimento Quaggiù Eh mio marito fa Non ci sarà Non avranno mica Trovato una bomba Eh niente Dopo è arrivato Un poliziotto Verso le tre e mezzo Che ci ha detto Che per un paio d'ore Dovevamo andare via Dovevano arrivare Gli artificieri Invece Non siamo potuti più rientrare E quindi Siamo stati Dopo sono andata Siamo andati a dormire Da mia figlia E Che era in via Roma Proprio al limite Al limite Al limite Sì sì Che ora siete rientrati poi? Eh ieri mattina Verso le otto Sennò È stato traumatico per me Come avete passato La giornata poi praticamente? Io sono andata A casa di mio figlio Non sono andata Ai centri di raccolta Quando sono tornata Ero come una stordita Perché è un'esperienza Un po' così Traumatica Non me l'aspettavo Ecco Avevate la bomba A 50 metri? Eh proprio dietro Casa mia Mamma mia Potevo esplodere Da un momento all'altro Sono esperienze della vita Bisogna aspettarsi di tutto Io ho visto voi al mattino Alle nove Fare delle riprese Sì Passeggiavo La solita passeggiata La giornata L'ho fatta in casa Perché avevo delle cose da fare Alle sette Sentivo del vociare qua fuori E ho visto tre macchine La polizia Tanta gente che chiedeva E io mi sono affacciato Alla mia vicina di casa Per avere notizie Ho scoperto in quel momento Che c'era una bomba Che c'era una bomba Che era pericolosa Sentendo Era una di quei modelli Che lavorano molto bene in basso Distruggono Come ha vissuto La giornata di ieri insomma? Io l'ho vissuta benissimo Che ho dormito a casa mia Ah ecco Lei non si è allontano Io non mi sono allontanato Gliel'hanno detto però Che bisognava andare via Certo Però io e il mio cagnolino Siamo stati a casa Ho avuto fiducia Che ho detto In settant'anni Chissà quanto Per arrivare qua Quanto ha sbattuto Se non è scoppiata Lì non scoppia Non scoppia Non è scoppiata Certo che un pochettino di disagio L'ha dato Però la prudenza Io credo che abbiano fatto Un'azione Veramente incomiabile Sia L'esercito e la marina Ma anche il sindaco Tutta la giunta Qualcuno dice un po' esagerati E' esagerato Ma se la bomba La bomba era in pericolo Che deflagrasse Perché è stata innescata Probabilmente No? Muovendola Nello scavo E quindi c'erano E quindi c'erano queste 144 ore In cui Il reagente chimico Poteva creare L'esplosione Per cui Era a rischio Certo Perché rischiare Perché rischiare La popolazione Quindi il dubbio Adesso Sorge spontaneo Dice ma Ce ne saranno Delle altre Già E comunque O in un modo O nell'altro La bomba Prima o poi Scoppierà E che cosa succederà All'ambiente marino Ai pesci Lo abbiamo chiesto Al professor Piccinetti Del laboratorio Di biologia Marina Di Fano Professore Allora Questo ordigno Esploderà La settimana prossima Che conseguenze Che se ci sono E che tipologia Di queste Possono essere Come conseguenze Per l'ambiente marino Diciamo Le conseguenze Sono diverse Dipende da dove È l'ordigno L'ordigno È 2 miglia Della costa La profondità Dovrebbe essere Sui 14 metri Non tanto 40 per 40 metri Troviamo quasi A 18 miglia Quindi cominciamo A essere molto più fuori Ma Alla zona 2 miglia È una zona Dove il fondo Comincia ad avere Una percentuale Più importante Di sedimento fangoso Quindi di sabbia Della costa Eccetera Ce l'è rimasta Molto poca Quindi in questa zona Cosa ci vive normalmente Ci vivono le canocchie Che vivono nelle rotane Poi abbiamo La zona delle soglie Dove le soglie Evidentemente Si nutrono E si spostano tranquillamente Ci abbiamo un poco Di mazzoline Però ci sono Degli altri molluschi Ci sono dei crostaccio Cioè degli organismi Che ci vivono normalmente Come dappertutto Tutto il mare Che cosa gli succede A questi organismi Dipende più o meno Quello che sarebbe successo A qualcuno Che stava nella zona rossa Qui vicino A dove si doveva esplodere prima C'è un'onda d'urto E anche dell'acqua Questo onda d'urto C'è C'è una mortalità Di quelli che stanno Più vicino E che a un certo punto Dove c'è l'esplosione Evidentemente Quelli che stanno In un certo raggio Muoiono Dipende Quanto è la quantità Di esplosivo E quindi La dimensione Del raggio Problemi di inquinamento Eventualmente Per il fondale Con i sedimenti Cioè il fondale Accennava prima Che è un fondale Fangoso Quindi insomma Rocce E altre cose Non hanno conseguenze No Sulle rocce Non ci sono conseguenze Il secondo Se farà un buco Farà una buca Più o meno profonda Che ci metterà Un po' di tempo Piano piano Per riaccumularsi Con il trasporto Del sedimento Dalle parti vicine Che ritornerà Quindi avremo Un avvallamento Però diciamo Che nella zona Due miglia della costa La pesca a strascico È vietata E di conseguenza Non è che nemmeno Avremo il rischio Che una barca Va a pescare Trova un buco Tutto all'improvviso Per la sua rete E quindi ci resta La rete impigliata Nel fango Eccetera Lì la pesca a strascico È vietata Le vongolari Non ci arrivano Perché troppo fuori Quindi è una zona Penso che non ci dovrebbero Essere degli impatti Negativi Nemmeno per la pesca Bene E adesso Cambiamo pagina Parliamo Di una Chiesa Che verrà Riaperta Domenica prossima Alle 11 Nella quale Presiderà La Santa Messa Il Vescovo di Fano Trasarti Si tratta Della chiesa Di Santa Croce A Calcinelli Nel comune di Colle del Metauro Chiusa nel 2016 A scopo precauzionale Dopo il terremoto All'interno Dell'edificio di Culto Erano Segnalate Numerose lesioni Nei muri E nel solaio Così come Nelle arcate Della navata centrale Adiacente al Presbiterio La cui copertura Linea Presentava Diversi dissesti Le opere di ristrutturazione Garantiranno adesso Una maggior sicurezza Anche in caso Di nuove scosse Grazie ai fondi Raccolti Dal Rotaract Club Valle del Metauro Con il Caneval Party È stata realizzata Una delle Aule educative Del centro di urno Di Gimarra Batti 5 Anche se il Carnevale Ormai è un argomento Archiviato Perlomeno lo sono Gli aspetti Strettamente legati A questa edizione Con tutto il corollario Di annessi e connessi Alcuni eventi Realizzati in queste Tre settimane Mostrano ora I loro frutti Carnevale e solidarietà A Fano Sono sempre andati A braccetto Ed il Carnival Party Del Rotaract Club Valle del Metauro Ne è l'ennesima conferma I giovani Rotariani Da tempo Hanno deciso Che questo evento Festoso Dovesse anche avere Una finalità Benefica Come nel loro stile Quest'anno A beneficiare di questi fondi 800 euro Raccolti durante La serata in maschera È stato il laboratorio Batticinque Che si occupa Di bambini Affetti da autismo Che ha potuto Così allestire Un'altra aula Dedicata all'apprendimento Il centro Situato in via Delle Vele 14 A Gimarra È nato Grazie alla campagna Fare imprese nel sociale Ideata e condotta Dalla fondazione I bambini delle fate Sbarcata nelle marche Soltante un anno fa Con il sostegno Al progetto di Onfalos Fano in blu Di una squadra Di capitani coraggiosi Imprenditori Che hanno deciso Di investire nel sociale A sostegno Di progetti importanti Siamo veramente Molto soddisfatti Del risultato ottenuto Anche perché Ci tenevamo Come ho già detto prima A dare un risultato Concreto e tangibile Infatti ci troviamo Proprio nella stanza Che siamo riusciti A realizzare Grazie al contributo Raccolto Di 800 euro Vorrei ricordarlo Perché grazie ovviamente Non solo a noi Che abbiamo organizzato L'evento Ma soprattutto Ai partecipanti Che siamo riusciti Proprio a Realizzare Questa Quest'aula educativa Ecco La cosa bella È stata anche L'interazione Proprio con I componenti Del batticinque Perché sono venuti Proprio anche loro Alla festa Sì infatti è stata Per noi una bella sorpresa Perché Pensavamo Ecco Di non riuscire Ad averli Come nostri ospiti E invece Ce l'abbiamo fatta Si sono anche divertiti Quindi anche i feedback Sono stati Sicuramente Molto positivi Ed è stata una serata Diciamo divertente Anche per tutti quanti Nel centro Vengono seguiti Dalle 14 Alle 19 di sera 29 pazienti Che traggono Continuità Così con il sostegno Che hanno ricevuto Durante la mattinata A scuola Questo rapporto È nato un po' Per caso Quando il responsabile Della campagna Della fondazione Bambini delle Fate Stava cercando Sul territorio di Fano Aziende da coinvolgere In realtà Ha incontrato Questo gruppo Di giovani Dinamici Che come tutti i giovani Hanno voglia di divertirsi Però hanno anche voglia Di fare qualcosa Di buono E così Ci hanno chiesto Di cosa avevamo bisogno Noi avevamo questa Intenzione Di aumentare L'offerta Del nostro laboratorio Ed è nata questa bella iniziativa Ci sono altre attività Prossime Per far conoscere Quello che è il vostro mondo Soprattutto aiutare Le persone A non sentirsi sole In questo Sicuramente Universo complesso Sì Nell'ambito Le nostre raccolte fondi Noi ogni tanto Ci inventiamo Una manifestazione nuova Anche quest'anno Riproporremo A Marotte e Mondolfo Una mezza maratona Che farà da prodromo Alla Colle Marathon I cui esponenti Tra l'altro Ci hanno dato Una grossa mano Per cui vi invitiamo Tutti l'8 aprile A Mondolfo Il centro È a disposizione Con i suoi educatori Anche per fornire Assistenza Ed orientamento A quelle famiglie Che si devono Confrontare Con la malattia E necessitano Di assistenza Per non sentirsi Navi sole Nella tempesta Che possono Prendere così Contatto Con la struttura Attraverso Il numero di telefono 0721 827159 Dalle 14 Alle 19 Di ogni giorno Quello che magari Siete più abituati A vedere Il Ministero Dello Sviluppo Economico Ha pubblicato La circolare Per il rilancio Imprenditoriale Delle aree Del cratere sismico I territori devastati Dal terremoto Che ha colpito Marche, Abruzzo, Lazio E Umbria Hanno a disposizione 48 milioni di euro Di cui 29 Destinati Alle imprese Marchigiane Le iniziative Di queste imprese Dovranno prevedere La realizzazione Di investimenti Produttivi E per la tutela Ambientale I fondi Sono quelli Stanziati Dall'accordo Di programma Tra il Ministero Dello Sviluppo Economico In Vitalia E le regioni Le domande Di finanziamento Vanno presentate All'Agenzia Nazionale Per l'attrazione Degli investimenti E lo sviluppo Dell'impresa E dovranno Pervenire Dal 10 maggio Al 9 luglio Di quest'anno Dopo la fiera di Londra Considerata Una dei maggiori Eventi turistici A livello mondiale L'assessorato Al turismo Del comune Di Fano Ha partecipato Nei giorni scorsi Ad una fiera A Berlino Un altro appuntamento Di rilievo Nel mercato Internazionale Del turismo Ospitati Dalla regione Marche Nell'area Centro Italia Lo stand Comprendeva Marche Umbria Lazio e Abruzzo Ovvero Le quattro regioni Interessate Dal terremoto Delle cui spese Però si è fatto carico L'Enit Questa esperienza Per il comune di Fano È stata un'occasione Non solo per promuovere La città della fortuna Ma anche per presentare All'interno Della conferenza stampa Tenuta da regione Marche E aeroporto di Ancona Per presentare Il nuovo volo Low cost Operato da Easyjet Che dalla prossima estate Collegherà Berlino Alla città di Ancona E adesso Parliamo Di sport Come vedete Alle mie spalle C'è la foto Di Valentino Rossi Perché ci sono percentuali Più alte Del passato Che sia L'ultimo rinnovo Ma non è detto Almeno così Ha dichiarato Valentino Rossi Allo Zail Nella prima conferenza stampa Della nuova stagione Della MotoGP Dopo aver annunciato Il rinnovo Con la Yamaha Per altri due anni Valentino Rossi 39 anni Da poco compiuti E con il nuovo contratto In sella Fino ai 42 È il vero protagonista Della conferenza Che apre la stagione Penso di avere Abbastanza forza E motivazione Per continuare Mi sento A mio agio La moto mi piace Così dopo i test Ho deciso Di continuare Ha detto Il campione Della MotoGP Valentino Rossi Dopo il telegiornale Ci sarà Box Con i personaggi Di Fano Poi ci sarà Uno speciale Che riguarda La Proloco di Fano Realizzato Nel quartiere Di Tre Ponti Ma prima ancora In cucina con lo chef E poi Guarda Chi c'è Ma Vi ricordo Che la settimana prossima Oltre a tornare Purtroppo Il freddo Non sarà Grande freddo Ma sarà Comunque freddo E forse Potremmo vedere Anche qualche fiocco Di neve Ancora Ci sarà Tutta la settimana L'appuntamento Con l'album Del Grande freddo Tutte le vostre Fotografie Tutti i vostri Video Raggruppati In cinque Seratone Speciali Tutte da vedere E' davvero tutto Grazie per averci seguito A domani Encontrate A domani Ring Enterprise A domani A domani Joakim A domani A domani joined by Universitutu AtOS Grazie.